Ciao, meravigliosa Queen! Benvenuta a questo nuovo allenamento! Allenamento per tonificare e svegliere tutto il tuo corpo. Sei pronta? Eline, ma perché tonificare e svegliere? Perché così entri bene nei tuoi vestiti e ti senti bene quando ti guardi allo specchio. Vieni, sei pronta? Allora, il primo esercizio che faremo oggi sarà un affondo. Se sei principiante puoi appoggiare la mano sul muro, su una sedia e fai questo movimento con tutta la calma così. Vai giù e torna su. Quando fai l'affondo è importante non andare col ginocchio troppo in avanti, questo qua, e tenere dietro il tallone sollevato, ok? Se sei già allenata, lo complicheremo un pochino, fai un affondo con un salto, un affondo con un salto, ok? Faremo prima un'altra gamba, cambieremo, poi faremo l'altra. E per concludere ci diverteremo con un piegamentino a terra. Quindi, se sei principiante, guarda le braccia, vai giù con i glutei, piega e allunga. Se sei già allenata, hop, giù e su, giù e su, senza ginocchio, a terra. Sei pronta per il riscaldamento? Oh, yes! E su bene, inspira, espira, vai su, espira, vai su bene, allunga, 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 allunga. E cambio, laterale da un lato, e laterale dall'altro, apri le braccia, muovi bene le spalle, così. E poi anche le gambe, vai, uno, due, uno, due, così, perfetto. Vai, ancora, quattro e tre, riscaldiamo bene, eh? Due, vai. Ok, altri polsi, vai, così ci prepariamo bene per i piegamenti. Piegamenti, invece c'è da divertirsi con i piegamenti, eh? Cambio, giro, 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 vai. Uno, due, ok, perfetto. Gomiti, chiudo, 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 chiudo. Vai, 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 così. Quattro e tre. Bravissimo, bene le spalle, tutto per i piegamenti, vai. Su, 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 ancora. Quattro e tre, col sorriso, due, ok, bravissima, cambio, guarda. Calcio, 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 tocco, 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 vai. Facendo questa torsione, col troppo, vai. Quattro, tre, due, ok. Abro, 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 su, 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 ancora. Quattro, vai, tre, così, perfetto, va. Ok, stop, gamba dietro, respira. Vai, brava. Quattro e tre, così, due, ok. Va bene, adesso qua, qua, giro, vado avanti, Andrei. Muovi le braccia e solleva. Vai, e muovi bene le braccia. Prepariamo bene tutto il busto, va. Vai, vai, due, e adesso ferma qua, piccolo così. Su, 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 molto bene. Quattro, vai, tre, e due. Molto bene, ok, vai di là, avanti, dietro, avanti, dietro, vai, ancora. Quattro e tre, vai. Due, su, ginocci, su, e su, vai. Su, e su, così, bravissima. Quattro, vai, tre, e due. Ultimo piccolino qua. Su, 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 ultimi quattro. Vai, tre, e due, oh, stop, bravissima. Partiamo. Two, one, go. Vai. Affondo, salta. Affondo, salta. Ti ho spiegato cosa devi fare se sei principiato. Ti ricordi? Solo l'affondo, ovviamente, senza il salto. Se hai bisogno puoi appoggiare la mano sul muro. La, one, stop. Molto bene. Molto, molto, molto bene. Sopriamo la gamba. One, go. Vai, scendo, su. Scendi, su. Giù, su. Giù, vai. Vai, hop, vai, hop, vai, hop, vai. Two, one, stop. Ok. Vedrai che ci verrà un siderino. Un siderino, poi mi rincazzerai, eh? One, go. Rometo. Giù, su, giù, vai. Vai, e giù, su, vai. Hop, su, hop, su, giù, su. Vai, su, giù, stop. Sì, i filamenti sono intensi. Questo è un allenamento intenso. Per donne che non hanno tempo, eh? Non è l'allenamento completo, come lo sai. Perché l'allenamento completo è più lungo, ma dura in tutto 20 minuti. È elaborato in un modo un pochino diverso. In 20 minuti fa tutto. È molto, molto bello. Scendo, su. Scendo, su. Scendi, vai. Scendi, vai. Ricordati di seguirmi su Instagram. Così. Two, one, stop. Puoi partecipare alle settimane gratuite. Quando io le ho realizzate. Three, two, one, stop. Senti. 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 Vai. Senti. Fuori bene l'aria. Two, two, one, stop. Uh. Che meraviglia, che meraviglia. Si sente, eh? Good. E questo è l'allenamento che ti fa consumare il grasso quando finisci. Cioè, tu dopo finisci l'allenamento, ti metti in seduta, in seduta, in seduta, no? Buono. È una magia. Lo so. Lo so, è una magia. Vai. Ispira. Con il sorriso. Abbiamo già finito, eh? L'allenamento, che velocità. Vero? Eh? Stop. Dimmi la verità. Potresti andare ancora un pochino avanti, eh? Una volta che sei qua, una volta che parti, vai. Giù, su. Giù, su. Giù, su. Forza, forza, forza. Hop, su. Hop, su. Vai. Shhh. E shhh. Giù, su. Giù. Stop. Ah. Complimenti, Queen. Ah. Spira. Così. E già che ci sei, incrocia le dita dietro la schiena, spingi le mani verso il pavimento e apri il pettorale. Fuori l'aria, vai. Apri bene il pettorale, respira. Ah. Senti come tutto il tuo corpo si è attivato. Magia, vero? Allarmi le gambe. Peso del corpo sui glutei, mani lontanissime in avanti, allunga la schiena qua. Respira. Vai. Così. Molto bene. Ok. Allora, lasciare le mani a terra. Ancora sui glutei. Se riesci, appoggia il tallone, di modo che allungiamo bene sia la schiena che il posteriore di gambe. Se non ce la fai, piega le ginocchia e rimane così. Ah. Respira. E ora, piega le ginocchia, cammina con le mani nella direzione dei piedi. Abbraccia le gambe, inspira. Allunga le gambe, porta il petto alle cosce. Vai. Respira. Allunga bene la schiena, le gambe. Piega le ginocchia e vieni su piano. Piano. E piano. Come stai? Sì? Non mi hai ancora fatto. Guarda, mamma parola. Schiaccia subito il like. Iscriviti al canale. E ovviamente attiva le notifiche. Ogni volta che io faccio un nuovo video, tu non rimarrai fuori. Vai. Like e notifiche. Bravissimo. Apri il petto, gambe vicine. E ovviamente io voglio sapere come è andata l'allenamento. Come stai. E' importante, così io riesco a calibrare quello che facciamo qua. Se tu non mi dici niente, io vado avanti per la mia strada. Davvero lasciami il tuo feedback perché voglio sapere come stai. Ok? Allunga bene, respira. Piede a terra. Ah, che bello. Poggio la mano così. Giro lo sguardo a terra. Senti abitare il tratto cervicale. E' un collo qua. Mani dietro. Passa la mano dietro. Poi gira lo sguardo. Guarda su. Ok. Vieni. Lassa il cabello dall'altra parte. Oppoggio la mano. Mani dietro. Guarda. Prima il basso. Respira, un po' in alto, molto bene, lascia le spalle, vai, respira, respira. Vai su, espira, vai, ultima, avvicina, braccia, gambe, fai un bel inchile in avanti, grazie mille, sepa, se sca!